Buongiorno da Glasgow, insolita la location per darvi il benvenuto. Siamo all'interno di un taxi e stiamo andando all'Hydro per assistere alla finale o la round maschile. 6 più 1, il re della ginnastica è assolutamente lui. Koei Uchimura vince il suo sesto titolo mondiale di seguito, che, aggiunto all'oro olimpico di Londra, fa proprio 7. Una supremazia, quella del giapponese, che non lascia spazio. a nessun altro. Sorpresa al secondo posto con il cubano Manric Laourde, che lascia tutto il pubblico a bocca aperta. Bronzo, infine, per il cinese Shudy Deng, a quota 90-0-99. Fuori dal podio, il campione europeo Oleg Verniajev. Al termine della gara, poi, siamo riusciti a raccogliere in zona mista qualche commento a callo dei protagonisti. Il riusciti a raccogliere in quel momento. Il riusciti a raccogliere in un'altra parte. 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 Il riusciti a raccogliere in una parte. Il riusciti a raccogliere in un'altra parte. Allora, nessuno qui è riusciti. Abbiamo fatto felicità. Il riusciti in un'altra parte. final let's go go to real next year yeah we need to working hard and getting better with team and there's one their guy training hard in Brazil that's Sazaki it's recovery in the surgery so our team go more strong next year competition went great few mistakes on the p-wars I dislocated my finger a few weeks ago so I didn't train that that much but I'm happy about the routine I did so yeah the whole competition went great so yeah all the all-round yeah we have to qualify the test event with the team first so we will see what happened by I think we have good chance anche per questa sera da Glasgow è tutto l'appuntamento è domani con la prima giornata di finale di specialità